Grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. È un'interrogazione che parte da circa sei anni fa, Assessore, come lei ben sa, quando in data 17 luglio 2012 il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge ed iniziativa dei consiglieri Smacchi, Buconi e Lignani Marchesani, con la quale si dava mandato alla Giunta di attivarsi per la ridefinizione delle aree contigue ai parchi regionali. Da quel momento è partita la procedura, tutta una serie di atti, fra i quali l'approvazione da parte della Regione del rapporto preliminare del piano di gestione del parco regionale del Montecucco, dando avvio alla procedura di VAS. Poi nel 2015 si è svolta la conferenza di consultazione preliminare di VAS, alla quale hanno partecipato anche gli amministratori dei quattro comuni costituenti il parco. In data 22 giugno 2015 si è svolta poi la seconda fase di consultazione preliminare di VAS, con la quale poi le amministrazioni dei quattro comuni della fascia appenninica hanno prodotto un documento unitario di proposta di modifica e miglioramento del piano di gestione del parco regionale del Montecucco. Al primo punto di questa proposta vi era l'indicazione di rivedere i limiti dell'area parco e la modifica o eliminazione dell'attuale aree contigua, secondo le indicazioni dei singoli comuni. Tale richiesta degli amministratori è stata accolta dalla Regione Umbria, che ha invitato le amministrazioni comunali a predisporre una proposta di ridefinizione della zonizzazione del parco. Si sono svolti diversi incontri informali, al fine di concordare le proposte delle amministrazioni comunali con le necessità esposte dagli uffici regionali. All'esito di tali incontri è stata prodotta una proposta di modifica della zonizzazione del parco e di eliminazione dell'area contigua, che soddisfa le necessità di tutti i soggetti coinvolti. Eravamo nel 2017, quindi un anno fa, e proprio in quel periodo presentai una interrogazione a lei, assessore, chiedendo l'UMI circa i tempi e le procedure attinenti alla riperimetrazione. Lei ci rispose dicendo che l'intervento di riperimetrazione è stato portato avanti tenendo presente l'esigenza di salvaguardare le ricchezze naturalistiche di quel territorio. All'interno del lavoro per i piani di gestione del parco stavate lavorando in collaborazione con alcune università e a ottobre del 2017 sarebbero dovute, in qualche modo, portate avanti le cartografie e gli obiettivi che ci ponevamo per dare maggiore slancio alle attività condotte all'interno del parco. In questo ambito, continuava dicendo, valuteremo la possibilità di rivedere l'area contigua prevedendo una fase di partecipazione di 60 giorni. Ecco, sono passati alcuni mesi da quella scadenza che ce l'avamo dati e questa nuova interrogazione ha proprio questo senso, quello di capire ancora una volta i tempi e lo stato delle procedure per la ridefinizione dell'area contigua del parco del Montecocco. Grazie. Prego, Assessore Cecchini. Sì, è vero consigliere Smacchi che risposi a quell'interrogazione indicando anche la tempistica necessaria per poter portare in giunta i piani di gestione dei parchi dal momento che la rivisitazione delle aree contigue dei parchi l'abbiamo inserita all'interno della redazione dei piani di gestione dei parchi che stiamo facendo attraverso la collaborazione di università importanti a partire dall'Università di Perugia anche per affermare che c'è bisogno di un lavoro serio nel momento in cui si va a restringere comunque un'area definita precedentemente con leggi regionali, area comunque di pregio dal momento che è stata messa come contigua a un parco, a parchi molto importanti. Nella redazione dei piani di gestione la regione come ufficio saremmo pronti per portare tutto quanto in giunta è pronta la cartografia, è pronta lo studio, è pronto tutto quanto, manca l'ultimo tassello che è quello della costituzione della comunità delle aree protette cioè nel momento in cui si va a approvare il piano di gestione dei parchi c'è bisogno anche della comunità che è una sorta di organismo costituito sulla base di una procedura fatta con trasparenza dove si chiede di mettere a disposizione di un nominativo tutti i soggetti che hanno ruolo per dare poi valutazioni sul regolamento, sullo statuto su tutto quello che riguarda poi la costituzione diciamo dei nuovi piani di gestione dei parchi. In questo caso le diverse associazioni a partire dalla provincia, i comuni interessati hanno messo a disposizione un interlocutore mancano ancora i soggetti di riferimento da qualche parte di proloco, di associazioni ambientaliste, di associazioni venatorie dopo diverse sollecitazioni ne manca ancora alcuni e quindi la cosa che posso dire è che ho già chiesto agli uffici di procedere ulteriormente con una lettera di sollecito per poter avere questi nomi e essere poi nelle condizioni appunto di portare in giunta tutto il lavoro che è pronto ed è fermo da tre mesi proprio perché non tutti i soggetti deputati ad eleggere il rappresentante hanno ancora messo a disposizione il proprio nome. Quindi vigilerò come dire e magari date una mano anche voi nei territori perché appunto poi magari possiamo darvi l'elenco dell'associazione dei soggetti che debbono fare le nomine per affermare che appunto quello che apparentemente può sembrare un atto non così importante in realtà sta rallentando tutto l'iter di approvazione dei piani di gestione dei parchi a cui è collegata naturalmente la ridefinizione dell'area contigua del parco di Montecucco. Bene prego consigliere Smacchi. Sì grazie assessore non ero a conoscenza di questa problematica che purtroppo come dice lei sta rallentando da circa tre mesi la conclusione di un iter quindi è chiaro che da parte sua il sollecito è d'obbligo da parte nostra che viviamo in quei territori faremo lo stesso magari ecco attraverso anche la lista delle associazioni delle prologo che ancora hanno dato risposta non hanno messo a disposizione i nominativi. Ricordo che quel parco per quel territorio è una risorsa preziosa ma non solo per quel territorio per la stessa regione Umbria e questa ridefinizione è molto attesa da tutta la comunità proprio per un rilancio e per alternative anche economiche per far sì che quel tessuto economico rimanga unito e non si disgreghi ancora di più. Grazie assessore e vigileremo allora insieme e solleciteremo insieme. Grazie. Grazie. Bene adesso passiamo all'oggetto 153 a presentarlo sarà il consigliere Fiorini situazione post sisma a Castelluccio di Norcia tempi per la realizzazione delle opere l'interrogazione credo sia rivolta all'assessore Paparelli. Prego. Grazie presidente. Sono trascorsi quasi 19 mesi dal sisma che ha colpito il centro Italia in particolare le zone della Valnerina Umbra e il borgo di Castelluccio di Norcia rendendo difficoltosa la viabilità e rendendo impossibile la permanenza in luogo di abitazione e strutture commerciali turistiche e ricettive. Ancora oggi a Castelluccio non sono state rimosse gran parte delle macerie non è stata realizzata neanche una SAI non si è provveduta una delocalizzazione produttiva o alla realizzazione di un luogo di aggregazione sociale. Ancora non si conoscono i tempi di realizzazione del cosiddetto deltaplano che dovrebbe ospitare le realtà commerciali delle zone di Castelluccio. Da più parti tra l'altro sono state espresse perplessità riguardo la soluzione del deltaplano poiché è privo di residenza per i commercianti nel periodo invernale e soprattutto ritenuto un espediente per il trasferimento definitivo del borgo e nel non temporaneo come da più parti richiesto. Alcuni operatori economici di Castelluccio avevano suggerito di attuare la soluzione riguardante l'utilizzo dei fabbricati che si affacciano sul piazzale Montevettore cioè strutture private che i proprietari sarebbero disponibili a concedere in uso e che potrebbero essere edificati in poco tempo prevedendo le strutture commerciali a piano terra e le residenze per i commercianti ai piani superiori con notevole risparmio di tempo e costi. Questo progetto poi era stato anche avanzato dopo il terremoto del 79 e a due mesi prima, vi ricordo, del primo sisma del 26 agosto erano arrivate le autorizzazioni. Dunque io vorrei capire anche per quale motivo adesso questo deltaplano viene costruito nella piana e con quali criteri è stata decisa questa soluzione. C'è da considerare inoltre che a distanza di 18 mesi non si è stato in grado di ripristinare la strada che da Norcia collega Castelluccio dice che il tratto viene aperto a fasi alternate e a orari prestabiliti. Nel giorno di Pasquetta ad esempio il tratto è stato aperto solo alle ore 12. Chiedo alla giunta regionali quali interventi intende attuare e in quali tempistiche per garantire agli operatori commerciali e agli agricoltori di Castelluccio delle strutture adeguate in vista della fioritura della piana e in quali tempistiche è previsto il completo ripristino della viabilità. Grazie. Grazie. Prego. Assessore Paparelli. No, vorrei avvisare in maniera pacata il consigliere Fiorini che chiunque pensa di fare demagogia o di dire sciocchezze su Castelluccio non conosce la realtà di Castelluccio, non conosce chi abita a Castelluccio. Non so se il consigliere Fiorini c'è mai stato e probabilmente se riunisce 50 persone che li governano a Castelluccio avrà 50 opinioni diverse su che cosa bisogna fare. quindi inviterei diciamo una maggiore tranquillità e calma da questo punto di vista. Tra l'altro è falso che sono passati 19 mesi dal terremoto, non è vero. L'ultima scossa è stata il 18 gennaio del 2017, questo lo voglio ricordare a tutti. e la scossa che ha distrutto Castelluccio sta il 30 ottobre, il 30 ottobre del 2016. Diciamo, la matematica per te è un'opinione, come ho visto prima, Fiorini per me è una cosa un po' più seria. Ma, detto questo, ovviamente non ho alcuna esitazione a rispondere alle questioni poste, perché la situazione post sisma a Castelluccio per la realizzazione delle opere va sottolineato che la situazione di Castelluccio, come dicevo, è particolare non solo per le condizioni atmosferiche estreme in alcune parti dell'anno. Quest'anno sono state peraltro particolarmente infelici, perché ha nevigato anche due giorni fa. Purtroppo, adesso scopriremo anche che qualcuno è anche meteorologo, qualcuno è anche profeta e qualcun altro, però, diciamo, poi regista le contraddizioni che stanno nell'interrogazione stessa. Dopo che siamo aggiunti con un grande processo partecipativo, avendo coinvolto il Parco, il Ministero dell'Ambiente, i Ministeri Competenti, giungiamo a una definizione condivisa, c'è sempre qualcuno, qualche ingegnere, anche in aula o sugli spalti, che dice che sì, però poteva essere fatta un'altra cosa, in modo diverso. Questo purtroppo fa parte della cultura italiana. Io quando sono cresciuto in un paesino in cui, quando rifacevano marciapiede, c'era sempre il pensionato ingegnere che diceva all'ingegnere stesso come doveva realizzare il marciapiede, quindi figurati se non ci sono abituato. Però, nelle premesse dell'interrogazione vengono evidenziati ritardi su una serie di aspetti e viene indicata una soluzione possibile di delocalizzazione che non risulta a conoscenza del servizio di protezione civile mai valutata, mai pervenuta, mai richiesta. Quindi, evidentemente, sarà oggetto delle chiacchierate informali che in quel di Castelluccio si sarà fatto il consigliere Fiorini. Per quanto riguarda le SAE, è da tempo aperta la problematica del loro dimensionamento. Per il Comune di Norcia, che non è certamente affine politicamente alla Regione, con il quale stiamo collaborando in maniera importante, debbono essere realizzate le 7 SAE. Per i comitati, le SAE da realizzare sono 17. Giovedì 5 aprile ci sarà un'ultima riunione presso il Dipartimento della Protezione Civile per cercare di individuare, in base alle regole vigenti, il numero delle SAE che è possibile realizzare a Castelluccio. Per le prime 7 SAE il Comune ha già individuato la localizzazione, fatto il decreto, ma non ha ancora proceduto ad occupare l'area. E questo impedisce di avviare la progettazione del primo nucleo. L'attività di rimozione delle macerie è stata sospesa a novembre del 2017. Non è vero che non sia mai iniziata. Per la mancanza della viabilità di accesso, solo in questi giorni la VUS ha ripreso i lavori con l'allestimento del deposito temporaneo vicino al fido depuratore ed è in corso la ripresa dello smaltimento delle macerie, avendo nel frattempo il Comune di Norcia notificato le ordinanze ai proprietari degli immobili. Perché ci sono delle procedure da fare e da rispettare. La delocalizzazione delle attività ristorative è temporanea. L'affermazione è che possa essere un'esperienza per il trasferimento definitivo del borgo, cioè definirei una sciocchezza fuori luogo. Perché non so come altro definirla. E non rispondo ovviamente alle illazioni che sono prive di ogni fondamenta. Forse se verrà uno di questi giorni le invito con me, consigliere Fiorini, a venire a Castelluccio. Si renderà conto, anche se non fa l'ingegnere e non fa neanche il geometra si renderà conto di quanto tempo ci vorrà per ricostruire un intero borgo. E non credo che in tutto questo tempo possiamo sistemare in luoghi improbabili chi deve svolgere attività economiche e commerciali. Perché magari vive solo di quelle ai quali comunque noi abbiamo offerto anche quest'estate una situazione temporanea che è stata molto gradita. Per quanto riguarda la tempistica prevista per la realizzazione degli investimenti di delocalizzazione delle attività produttive, noi da tempo gli appalti sono stati tutti aggiudicati e quindi fermo restando il tempo che speriamo ormai si sia definitivamente stabilizzato di consegnare entro questo mese i caseifici, di consegnare qualche settimana successiva le attività commerciali sulla piazza e di fare il prima possibile, non mi sento più di dare date nella costruzione delle attività restaurative, ma siamo fiduciosi, questo posso dire che entro il mese di giugno possono essere consegnate. Ho concluso, Presidente. Per quanto riguarda le SAE, la tempistica può avere inizio solo dal momento in cui le aree vengono occupate dal Comune e questo fino ad ora non è avvenuto, prevedendo che ciò possa avvenire, al momento solo per le prime sette SAE entro il 15 aprile, la realizzazione avverrebbe entro il mese di luglio. Per le restanti SAE bisogna valutare quello che il 5 aprile verrà accettato dalla protezione civile in relazione a chi ne ha diritto. Per quanto riguarda infine la viabilità di accesso alla frazione, l'unica strada percorribile è quella provinciale, che è già stata riaperta a fasce orarie e consensi unici alternati, verrà riaperta a consenso unico alternato nei prossimi giorni e si prevede, secondo l'indicazione della provincia di Perugia, che ne è competente, il suo ripristino entro fine maggio, al massimo i primi giorni di giugno del 2018. Grazie, consigliere, per la replica. Grazie, presidente, ma io noto che l'assessore Paparelli non si smentisce mai con la sua arroganza. Io pongo una domanda al contrario, ma l'assessore è stato mai a Norcia o a Castelluccio? Io non l'ho interrottato. Con replichi, assessore Paparelli? Io sono stato buono, tranquillo, sereno, ho ascoltato tutte le stupidaggini che ha detto, ho ascoltato tutto. Per favore, Paparelli. Adesso ribadisco e dico, se lei è stata a Norcia e a Castelluccio si è reso conto che la ricostruzione non è partita da nessuna parte. Ci sono stati i ritardi nella rimozione macerie, l'adeguamento delle strade. Io credo che dopo 17 mesi, credo perché la matematica è 17 mesi, se togliamo i due mesi, dopo 17 mesi ancora ci sono gli orari per salire a Castelluccio. Nel mese di settembre, a quello dicembre 2017, non ha nevigato a Castelluccio, eppure i lavori si sono fermati proprio per il pericolo neve. Questo io lo sottolineo, però ribadisco soprattutto che lì c'è una vera e propria emergenza. Ma stando alle sue dichiarazioni, si doveva partire con i lavori per il detta plano il primo aprile, come da programma per consegnarlo poi il 15 maggio. si rischia di saltare un'altra stagione turistica e operatori Castelluccio e Norcia si sono già rassegnati a questa realtà. Io invece di utilizzare, assessore, l'arroganza chiederei, inizierei a chiedere scusa e a smetterla di nascondersi dietro a bugie che non stanno né in cielo e né in terra. Perché, come ho detto all'inizio, e di sottolineo, la ricostruzione non è ripartita da nessuna parte. Non è partita da nessuna parte. Consigliere di tempo. L'unica cosa poi che le dico, che credo la lezione del 4 marzo, non vi sia servita a niente, grazie. Bene, allora, andiamo avanti. Assessore, non si può applaudire, lei lo sa meglio di qualsiasi altro soggetto in quest'Aula. Passiamo all'ultima interrogazione che è presentata dai consiglieri liberati e carbonari all'attenzione dell'assessore Cecchini. orientamenti espressi dall'autorità Umbra per rifiuti e idrico sulla utilizzazione di combustibile solito secondario nei cementifici Umbri e potenzialmente in altre aziende energivore. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Grazie consigliere liberati. Grazie Presidente. Dunque, Gubbio è una realtà notoriamente in forte sofferenza, come qualche altra. non può diventare l'immondezzaio dell'Umbria. Nessun territorio deve diventarlo, naturalmente, ma ci devono essere praticate delle iniziative nuove in tema di rifiuti. Quello che non si può accettare è l'escamutage di chi vorrebbe utilizzare il cosiddetto CSS che sono rifiuti in frazione secca non riciclabile, dei rifiuti urbani e industriali asseritamente non pericolosi, nelle cementerie di Gubbio. Allora, che cosa succede? Succede che, poiché il diavolo si nasconde nei dettagli, l'Auri, questa autorità Umbra rifiuti e idrico, a pagina 113 del suo documento preliminare di cui ha preso atto con deliberazione 37 a fine dicembre 2017 l'autorità, questa bozza preparata dalla OICOS Progetti, a pagina 113, improvvisamente, si inventa contro la legge regionale, il piano regionale sui rifiuti, delle alternative per la gestione, così viene chiamata l'eufemismo, del rifiuto indifferenziato residuo presso le cementerie. L'Auri poi, attraverso l'OICOS, devo supporre quindi che sia Auri a parlare a un certo punto, se non si prende mai posizione, dice che allo stato attuale i gestori delle cementerie non hanno sviluppato previsioni relative agli aspetti economici, ma perché si vuole invece bruciare il CSS? Siamo andati a cercare, siamo andati ad approfondire, ci sono, su questo c'è una bibliografia, vorrei dire, piuttosto ricca, bruciare il CSS significa spendere un terzo rispetto al petcock, ma il CSS purtroppo, come è noto, genera macro e micro inquinanti piuttosto rilevanti, piuttosto tossici, diossini, PCB, furani, metalli ed altro ancora, ci sono delle plastiche dentro il CSS ed altro ancora appunto. E allora noi, anche alla luce del fatto che a Gubbio sono state sottoscritte, 3.000 persone, 3.000 cittadini hanno sottoscritto una petizione di fatto rivolta alla Presidente di Regione. Io qui ho il documento di accompagnamento, nella quale si ricorda anche la storia dei promatici bruciati a lungo nella cementeria di Chigiano, per molti anni, con gravi conseguenze, naturalmente, perché bruciare le gomme, voglio dire, è di per sé evidente, di palmare evidenza. Non è stata mai effettuata un'indagine epidemiologica in loco. Credo quindi che più di, anziché parlare di questo, anziché mandare avanti la OICOS Progetti, si debba aprire un dibattito diverso sull'uso del cemento in Italia e in Umbria. Consigliere Tempo. Un dibattito su, ad esempio, il tema del cemento in luogo dell'asfalto. L'unico modo per riqualificare quegli impianti non è risparmiare col CSS, provocando una ricaduta sanitaria, sociale, notevolissima sugli Ocubini, ma è fare in modo che quegli impianti vadano avanti con l'utilizzo sostenibile che evidentemente è praticabile se la politica accompagna questi percorsi, imponendo la riqualificazione, perché c'è anche la possibilità finalmente di lavorare per Gubbio, anziché licenziare. Perché le gallerie della Foligno Civitanova sono in cemento e invece in Italia c'è tutto asfalto quasi ovunque. Perché in America, dove io sono stato, il cemento è prassi? Perché in Germania è prassi? Dura cinque, sette volte di più e invece in Italia si utilizza l'asfalto. Cioè se vogliamo fare una riflessione più ampia, facciamola, ma non andiamo avanti con gli escamutaggi che non aiutano l'industria, non aiutano l'ambiente, non aiutano la salute di nessuno. Quindi vi chiedo di chiarire se vorrete opporvi in merito all'uso appunto del CSS a Gubbio e naturalmente in tema di volumetrie aggiuntive della discarica di Colognola, che come è noto è ormai esaurita e non bisogna più andare avanti, anche alla luce della situazione ambientale preesistente. Grazie. Prego, Assessore Cecchini. Sì, ma naturalmente anche laddove noi dovessimo opporci, ci opporremmo ad un documento ufficiale, formalmente non solo redatto, ma anche partecipato e poi approvato, perché all'oggi la Giunta regionale non ha preso visione. Potrei informalmente procurarmene una copia come ha fatto lei, però lei sa che la pubblica amministrazione parla attraverso gli atti che compie. In questo caso la bozza di piano d'ambito regionale è in partecipazione con i comuni che stanno tra l'altro mettendo a disposizione le osservazioni proprio in questi giorni. e la redazione di un piano d'ambito regionale era uno degli auspici nel momento in cui la Giunta regionale ha inteso immaginare un soggetto come Lauri che rappresentasse la sintesi appunto regionale di tutto quello che riguarda la gestione dei rifiuti e della parte idrica. E l'obiettivo che noi abbiamo dato di realizzare un piano d'ambito regionale voleva risolvere la criticità presente in Umbria alle prese in una regione sotto i 900.000 abitanti alle prese con circa 20 gestori con più ambiti e più piani d'ambiti con diverse anche sia tariffe per i cittadini sia modalità di gestione e quindi il piano d'ambito regionale dovrà far sintesi dei quattro ambiti che fin qui hanno rappresentato l'interlocuzione come dire linee guida e la modalità di gestione dei rifiuti in Umbria facendo in modo che appunto attraverso una ricognizione dell'impiantistica, della gestione del porta a porta della gestione complessiva dei rifiuti si potesse avere un quadro regionale e naturalmente il piano d'ambito regionale non si pone solo l'obiettivo di far sintesi e di fare il riassunto di quello che è esistente ma anche di prefigurare scenari che riguardano la gestione perché come sappiamo la regione è un'istituzione che legifera fa le regole, i regolamenti ma non è un ente di gestione quindi in questo caso la gestione sta in capo ai comuni e dai gestori e da questo punto di vista quindi il piano d'ambito regionale è anche quello che va a declinare quello che è il piano regionale dei rifiuti vigente fin qui che vuol dire individuare una impiantistica adeguata utilizzando le migliori tecniche a disposizione per applicare anche in Umbria la gerarchia dei rifiuti quella prevista dalla normativa europea che vuole di massimizzare la trasformazione anche il riutilizzo la produzione di energia o combustibile e il riciclo e minimizzare il conferimento in discarica tra l'altro stiamo andando in questa direzione anche con fatica in Umbria però abbiamo ridimensionato dal 2010 ad oggi mi pare di poco meno del 40% il conferimento in discarica anche se ancora alto abbiamo aumentato di molto la raccolta differenziata e stiamo subito diciamo alle calcagne di quelle che sono gli obiettivi che ci siamo posti in questo caso appunto il piano d'ambito indicherà anche con quali impiantistiche dove si potrà produrre CSS perché poi per bruciare CSS prima bisogna produrlo e produrlo vuol dire investimenti ed impianti molto più adeguati e moderni per far sì che quella parte secca di cui parliamo possa avere le caratteristiche di combustibile che tra l'altro non essendo un rifiuto può liberamente spostarsi nel territorio nazionale quindi escludo che ci sia un piano regionale vigente che dice che il CSS si utilizza solo fuori regione è una volontà politica è una scelta politica della regione che dice attraverso accordi con altre regioni i gestori poi utilizzeranno impianti fuori regione ma non è come dire nel piano regionale proprio per il fatto che essendo un combustibile non può essere limitata l'utilizzo naturalmente non so se in quella bozza che lei ha c'è scritto Gubbio c'è scritto altro il comune di Gubbio partecipa alla stesura quindi metterà a disposizione le proprie valutazioni nel momento in cui entreremo in possesso del piano d'ambito quello approvato quindi quello ufficiale vedremo che cosa c'è scritto che cosa prevede e naturalmente lo confronteremo con il piano dei rifiuti vigente ma anche con gli obiettivi che come giunta regionale ci siamo posti dal momento che appunto laddove è necessario non ci sarà alcuna difficoltà ho detto in altre occasioni quindi non riferito alla domanda che lei mi fa oggi ma laddove fosse necessario noi andremo anche ad adeguare il piano regionale dei rifiuti sulla parte che riguarda appunto l'utilizzo del CSS rimane la volontà politica che è quella di utilizzarlo attraverso accordi fuori regione non mi risulta dall'informazione che ho che ci sia alcun impianto alcuna cementeria in Umbria autorizzata per utilizzare il CSS e quindi parliamo come di di scenari che non ci sono la verità è che mi pare qui senza polemica non è che quando ACEA chiede di poter utilizzare il 30% della disponibilità che ha bruciando la parte secca dei rifiuti urbani no? è altra cosa o è meno importante rispetto a un'ipotesi che le cementerie di Gubbia possono bruciare il CSS e il rispetto come dire delle norme dei cittadini e della popolazione credo che debba essere fatto per tutti quanti indipendentemente che si abita a Terni o si abita a Gubbio indipendentemente che da una parte come dice un comune che è socio e da una parte un altro comune questo come dire ad onore del vero grazie spero sì sarò velocissimo grazie mi è sembrato devo dire su Colognola non ha risposto mi chiederai più tardi magari comunque una prossima interrogazione magari se le spacchetta sarà in caso mi è sembrato il risponso della Sibilla Ibis Red Ibis non morieri sin bello è ambigua cavillosa purtroppo è un po' poco comprensibile non si è capita la volontà politica quella è fondamentale il comune di Gubbio come lei sa come lei saprà si è già espresso contro questa previsione e insomma io la lettera ce l'ho ma ce l'hanno tutti i cittadini che si informano lei parla di un atto che la giunta non ha visto quindi commentiamo un atto che non è formalmente è stato inviato ormai diverse settimane fa e quindi io credo che l'assessore e la giunta vorrà sicuramente prendere atto della volontà del comune di Gubbio di non far incenerire questo materiale in loco perché evidentemente le preoccupazioni l'inquietudine è già montata ci sono 3.000 firme cerchiamo di essere autentici portavoce delle istanze delle persone delle famiglie delle imprese perché Gubbio Gubbio scusi Presidente infatti ha già osservato però capisce bene che la sua no io dico che la vostra pressione politica sull'Auri è importante noi che cosa stiamo facendo oggi stiamo interrogando stiamo interrogando perché tutti convergiamo verso quell'obiettivo quindi ecco io le chiedo questa forma di coordinamento e di armonia ascoltando le richieste delle persone dei cittadini grazie bene allora prego prego assessore no mi perdoni sulla discarica di Gubbio naturalmente il piano regionale vigente indovida tre discariche che hanno un futuro e le cose stanno andando in questa direzione laddove l'amministrazione di Gubbio ha fatto richiesta non di un ampliamento ma di un utilizzo diciamo della parte residuale che ha e valuteranno gli uffici se questo è compatibile o meno grazie allora abbiamo concluso la sessione del question time grazie grazie a tutti